11.43 ci siamo finalmente inizia la season 5 abbiamo deciso di fare un video a reazione del pass battaglia del trailer non abbiamo guardato nulla di nulla vogliamo essere stupiti e questa qua è la prima cosa che vediamo l'immagine con diverse delle skin che avremo in questa season allora fare non so bene cosa aspettarmi ma neanch'io si parla di pirati e secondo me i pirati non ci saranno e beh io continuo a sperarci qua io sinceramente non vedo nessun pirata ma vedo una bella vichinga lo so per te valla da grande per te valla da grande allora sei pronta? si prontissima vediamo un pochettino perché la scorsa volta cambiava anche l'immagine di gioco quindi stiamo un po' a vedere ok diverse informazioni parla di navi dei vichinghi allora te la leggo io perché tu ce l'hai in inglese la stagione 5 è qui navi vichinga vanno posti del deserto e antiche statue sono apparse un po' in tutta l'isola ok salta su una tk e scopri nuove location ok e il terzo che mi interessa moltissimo allora giocherellone alla riscorsa sfida i tuoi amici in una partita di gol golf o basket con i giocattoli disponibili solo nel pass battaglia ok what? poi 100 livelli oltre 100 di compensa disponibile ora per 950 vbucks giocattoli? si golf e basket? ok mi interessa molto allora grazie mille battle pass bla 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 ok ok bella la seconda immagine la seconda immagine è bellissima non ho guardato nulla perché avevo intravisto quello della lobby e sono andata dritta la seconda immagine guarda che bella molto bella molto molto bella e poi l'inchino ci sta ci sta ci sta ci sta come pensavo eccoci qua nuovo screen nuova immagine molto figo deserto così immagino che sarà soltanto una zona io avrei avuto un'intera mappa in questo modo però ci possiamo arrangiare con soltanto una zona in questo modo e direi di andare sul battle pass sei d'accordo? ok allora season 5 battle pass stagione 5 pass battaglia ok come funziona vabbè stef ci sta spiegando il classico pass battaglia non cambia nulla? si no non cambia niente ok praticamente ti dice anche cosa c'è dentro e vabbè sono le cose che sappiamo già 100 livelli ti dice più o meno quanto ci vorrà completarlo che per completarlo dovrei fare delle sfide le cose perfetto allora direi di andare arrivano i giocattoli allora vabbè andiamo a vederli direttamente la prima skin è la vichinga quindi subito prima di tutto pur chase facciamo la versione da 950 tanto non è difficile completare il pass battaglia e andiamo un pochettino a vedere ok allora facciamo insieme perché io l'acquisto dopo non voglio ricaricare i soldi adesso varie cose di exp skin vichinga sembra davvero 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 carina e ti dico che qua rosichi per le mie ali perché ci stanno davvero bene secondo me beh si sembra quasi una cosa mitologica questa personalmente non mi piace neanche a me neanche a me proprio l'ho già vista dall'alloc screen e ho detto meh non ci sta un granché quindi va bene poi battle pass upgrade battle pass upgrade solite cose andiamo avanti niente di troppo interessante un po' di immaginette e fin qui non c'è nient'altro a parte appunto l'inchino il sushi sprite certo è bellino ma non gli do mai troppa importanza ok ok seconda pagina andiamo yes allora ecco qua livello 11 abbiamo il basketball e dice fai un tiro da 3 giusto? fai un tiro da 3 tiro da 3 e quindi teoricamente stiamo andando a sbloccare dopo gli spray balli e tutte queste cose le sci e così via hanno deciso di mettere una nuova giunta che sono i giocattoli che ci permetteranno di interagire davvero dentro davvero dentro il gioco che giochi davvero interessante allora da quello che loro hanno scritto sarà proprio così quindi sarà molto interessante provarli molto figo molto figo vai con il pallone da basket nei canestri ti metti a giocare non lo so però sembra bello pepe fare non giocheranno più a fornetti in modo serio poi zainetto molto classico niente di che il piccone invece lo reputo carino secondo me in alcune skin ci sta non mi piace troppo no dai mi hai fatto di palloncini lo capito ma è un po' strano la forma si l'ho capito A me piace A me ci sta Poi vabbè varie immaginette Varie cose Prima scia Figa Lanterna e cinese così È molto figa Particolare figa ci sta Quest'immagine ok Molto classica della skin Che conosciamo già E poi arriva Redline Altra skin Livello 23 Facile da prendere Semplice Ma carina A me piace Semplice ma carina Cioè non è che sia Mi sa molto di motociclista Adoro le moto E mi piace Vabbè nessuno lo conosce raga Ma durarararar Proprio Lo cita secondo me benissimo Assumirà troppo Ricorda molto personale Manca poi la testa Però in realtà Capito Vabbè Però se avessi avuto la testa Ricorda tantissimo quello In ogni caso dai Skin carina Non si capisce che non ha la testa Quindi la ricorda Esattamente Allora Livello 27 Pallina da golf Ho visto Quindi number two Dopodiché Piccone Oddio questo è orribile Che è? Ascia a brugola Vedi che è esatto Sembra brugola Totalmente Molto molto brutta Però è fatto di proposito E il ballo Cosa abbiamo? Bellissimo Steph guardatelo Sei un mito Figata E lo pensiamo tutti Figata La spaccata è bellissima Ok Il ballo del 31 Mi piace molto Poi abbiamo Immaginetta Ok Quindi è una skin di Baywatch Questa qua Perché l'ho già vista Nel log screen Allora Chiaramente con scritto Rescue Che sarebbe salvataggio Sì Probabilmente È un bagnino È un bagnino Una skin a tema estivo Ci sta E allora Shia Runiche Carina 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 Di solito non sono male Quelle non troppo appariscenti Però qua mi interessa questo Che cavolo è esattamente Perché non lo vedi A me si gira il personaggio di schiena Ah ok Grazie Allora no Non lo userò mai Ma so che lo userà Fere Lo userai Lo userò io A me interessa questo Oh mio Dio Che figata Eh vabbè Ma quando spunta la nave là Ma che cos'è Steph Che cos'è sta roba Allora Nave vichinga Fatto però con un lama Ed è un deltaplano E non una nave Questo è proprio figo 39 Il primo Forse è il primo deltaplano Che reputo figo In un passo battaglia Sì Quindi Good job Però aspetta no Qualcosa di figo C'era stato tipo quello Con la sciarco balenosa Quello era molto bellino Però questo è figo Carini Dopodiché Addirittura beach ball Ok Quindi il ballone da spiaggia Interessante Chissà come si potrà utilizzare Sono davvero curioso I giocattoli È la cosa che mi interessa di più Poi formula matematica Carino Bellino Molto molto carina E skin da Baywatch Non mi piace Lo dico secco Ve lo dico secco A me non piace Nenca a me Certamente non mi piace Ok siamo in estate Ma non mi dice nulla Esatto Molto impersonale Quindi andiamo Oh mio Dio cosa vedo Facciamo con calma La scia Io me la sono già spoilerata La scia Glitch in the size Errore nel sistema Certo È come se fosse un bug Bello Non mi piace Non mi piace Però Lo scudo Lo scudo vikingo È figo Questo è figo Per essere figo Io adoro i vikinghi Fai adoro i vikinghi Quindi questo è molto Molto figo Ok Allora 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 Altra pallina da golf Però rosa Sì Cioè What Non si chiama Tecnicamente Palla da golf Alla moda Vabbè Sì Ci sta Ci sta Ma è carina Carina Ci può stare Fammi vedere meglio C'è pure la stellina Ballo Ok Fammi vedere Dai 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 Ci sta Ci sta Bellino È carino Ci sta Ci sta Andiamo avanti Nuova scia Figo Bello questa Che ti si ghiacciano le mani I piedi Molto bello Guarda che bello l'effetto Questo è molto Molto figo Ci sta Ci sta Come quello di fuoco Però dà molto meno fastidio Perché il fuoco Fa troppo casino Quindi dava fastidio No bella Questa allora è una delle skin Più brutte mai fatte Su Fortnite Ve lo dico proprio Sincero 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 Non mi piace per nulla Ci sta Pazienza Però al 71 Raga bisogna pedalare Per essere a livello 71 Secondo me No Fosse stato in uno dei primi livelli Quindi facile da ottenere Tipo Come quella di quel ragazzo biondo Che c'è all'inizio Ci può anche Già già dici Però così Ma al livello 70 Mi devi mettere qualcosa di molto figo Cioè è difficile da raggiungere Quindi Allora Cose interessanti 75 Alla moda Anche la palla Appunto da pallavolo Da spiaggia Eccetera eccetera Però questo deltaplano È proprio tamarro Allora Raga fa schifo Ma è figo No Allora È di quelle cose Che fa schifo Ma è bellissima Allo stesso tempo La scarletta che esce All'ultimo Mi uccide Comunque È il tuo qui Allora Questo penso che Quando lo sbloccherò Lo utilizzerò Sì Questo Penso proprio di sì Dopodiché È livello 84 Altra scia Ok Cos'è? Ma è carta igienica È carta igienica Vero? No perché Volevo non capire Però Anche questa è orribile Ma bellissima Allo stesso Io la uso sta roba Penso che io Quando ci arrivo la uso Skin dell'87 Carina Ti dirò Mi sembrava peggio Nello log screen Invece è carina Non so bene cosa c'entra E dice È promosso da topo da scrivania Da gente sul campo Quindi sinceramente Non so bene Vedremo cosa mi stia Di indicare Ok Ok Boh non mi piace di faccia È orribile Ma io ce la reputo carina No se di faccia È davvero un topo da scrivania A me non dispiace Palla da basket È alla moda Ok Bellissima Molto carina Ci sta E dopodiché Breakdown Carino questo Questo è una figata Ma il 95 ragazzi Sono sempre Dei balli Fantastici Quindi Davvero davvero good Sei pronta? Skin finale Ed è lui Lo sapevo Lo sapevo Steph Guardalo quando appare il vestito Quanti ne ha? Quanti ne ha? Quanti ne ha? Cosa? Guarda quello col teschio Questa è bella Questa è bella E giuro che stavolta Mi impegno davvero Per finire il pass battaglia Perché Sarà probabilmente La prima volta Che usare una skin da uomo Steph Te lo dico Perché è figo a petto nudo È figo col primo appito Allora Al secondo step Bellissimo Al terzo diventa una bomba No quarto Sono quattro mi pare No no Sono cinque Cinque Perché ha due volte la maschera Perché poi compare Tutta la scia La scia di sicuro La scia di sicuro No vabbè Wow Wow Questo è Fighissimo Questo è davvero figo C'è così tanto personalizzabile È bello Per essere bello Poi li crescono pure i capelli Cioè Una figata Allora ci dà delle informazioni Sull'esperienza Io adesso Non so fare bene un calcolo Riguardo a questa cosa Però la fase 6 di 6 Sono 500 mila di exp 500 mila punti esperienza Io adesso non ricordo bene A che cosa può equivalere Potrebbe essere il livello 80 Come la scorsa volta Certo Non lo so Però di sicuro Cavolo se è bella Andiamo a vedere un attimo le challenge Perché ci hanno messo E l'arm Oh Ma allora diventa interessante La skin del livello 1 Fere però Perché? Perché con 200 mila di esperienza Lo vesti con un vestito Che è molto figo Aspetta Fammi vedere Dove sei? Ah in queste No neanche Su Ah non ho comprato il pass battaglia Ok Allora il piccone Siamo d'accordo che è figo E elettrico Rosa Molto figo Però poi guarda Li metti questa maschera Li metti questo capotto qua Ah allora sì Allora sì È bello No ha senso come skin Sì personalizzata così è bella Ok Quindi Allora ricapitolando Questa volta abbiamo Due skin basate sull'esperienza Una per completarla al 100% Ci chiede 200 mila E una per completarla al 100% 500 mila Bisognerà capire Quanto sarà tosto Dopodiché Come la scorsa volta Hanno fatto la cosa Di completare Sette settimane di fila Quindi di nuovo ci siamo Lo hanno voluto rimettere E poi volevo andare a leggere Al volo le missioni Per capire Perché hanno fatto una differenza Questa volta Per chi non ha il pass battaglia Comunque Si possono fare le prime tre missioni Ma lo fanno sempre Nella prima No no Tutte le settimane sarà Ah ok No carino Ok Ok È molto carino Molto onesto Secondo me ci sta E quindi in questo modo Secondo me Dai Ci sta È una figata Mi piace Mi piace Da diciamo una mano A chi non si può permettere Di prendere il pass battaglia O chi semplicemente Non lo vuole prendere E farei Credo che abbiamo finito tutto Nello shop Non credo ci sia nessuna novità Infatti no Nello shop Non abbiamo nulla E volevo andare a vedere Meglio al volo La skin della vichinga Vedete Si comunque lui risulta Edit style Ce lo fai vedere al volo? No non ce lo fa vedere Bigliacco E andiamo a vedere la vichinga Eeeh Fere dimmi che le ali Non ci stanno da dio Eh lo so ma non le spendo 2000 Solo per le ali Dimmi che non ci stanno da dio Lo so Però su 2000 Buck sono tanti Io al momento Direi che utilizzerò Questa skin con le ali No ma pure io E saremo in coppia E sarò più bello di te E sarò più bello di te Ok ragazzi Allora direi che abbiamo visto Tutto quello che c'è da vedere Ovviamente subito dopo questo video Noi ci buttiamo dentro il gioco A vedere tutto quello che c'è A vedere tutte le novità Uscirà un altro video Quindi oggi minimo due video di Fortnite Sulle novità Video non live Per tenere tutto più conciso Che secondo me Non lo so raga Da rivedere è più piacevole Quindi abbiamo voluto fare così Anche se è molto più faticoso Di andare in live Speriamo comunque Che vi sia piaciuto Il battle pass A noi è piaciuto abbastanza Devo dire Dai Secondo me ci sono un po' di pezzi fighi A me è a metà Secondo me Perché sinceramente Con tutti quei leaks Che ci sono stati Io volevo anche i pirati Eh lo so Sono rimasta Di nome Sono rimasta leggermente delusa Per i pirati Però la skin del 100 È proprio figa Esatto È spettacolare Quindi Esatto Qua sotto comunque Compaiono altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo più tardi Con un altro video Ciao ciao